Ciao ragazzi, bentornati in questo video, oggi mi trovo qua sulla spiaggia di Bibione per l'ultima tappa del trofeo enduro Usquarna, Gas Gas e KTM. Adesso iniziamo con la sigla e vi spiego meglio. È sabato pomeriggio, abbiamo appena finito le verifiche tecniche, tutte le moto sono al parco chiuso e adesso ci prepariamo. La gara sarà svolta nelle due giornate di gara, ci andiamo a cambiare e non vedo l'ora di entrare in pista sulla sabbia perché sarà davvero una figata. A dopo! Ci siamo ragazzi, mi sto preparando, maglietta Porta Fortuna con il mio nome e manca poco, adesso ultimi preparativi prima di cominciare la gara. Vedremo, sarà dura sulla sabbia, è un po' un'incognita, mi si stringe un pochino. Però dai, sono tutti contenti, i ragazzi sono super gasati, mettiamo un gilettino che qua c'è la rietta che si fa sentire. Casco, mascherina e guanti e si parte, andiamo! Oh ma alla fine partiamo insieme? Sei pronto? Sono venuto. Carico? Sì, dai! Sì, dai! Dopo l'arrivo Come sei caduto dopo l'arrivo? Si ero fermo Non ti ho visto Per essere la prima volta sulla sabbia bene Però Micchia di fisico T'ammazza Faticosissimo di braccia Sempre La moto che scappa Laggiù in fondo Nella curva mi si è un po' piantata Ma non ho perso tanto Ci vediamo là Grazie Grazie a tutti Ce l'abbiamo fatta Moto lasciata al parco chiuso Questa sera alle 9 e mezza Parte la manche serale Saremo una batteria tutta composta da gas gas Quindi sicuramente ci sarà da divertirsi Anche perché sarò con tutti i più forti Sarà dura Vediamo di migliorare Di imparare qualcosa Adesso andiamo a riposarci Faccio mangiare qualcosa Le precisi Frusti Età La È un serato. È un serato. È un serato. E quindi, con un pro, dopo aver promesso l'errore, ha rimesso il periodo. Buongiorno di Canaro, il risultato dell'acqua staggiorno, qui a Pimpione, ci siamo oggi in distanti da direzione di gara in porta. Con 20 secondi e 7 di distacco, il numero 507. Buongiorno a tutti, domenica mattina, sono le 8.35, tra dieci minuti parto ma non avevo visto l'aerario di gara, mi sono un po' svanito e oggi si partiva con il ranking inverso, quindi partivo subito. Adesso ho tutto di corsa, vado subito al parco chiuso, prendo la moto e iniziamo con la prova speciale che stiamo già in spiaggia sul mare, a tra poco. Ci siamo, bang! Ok, buon divertimento, buone immagini. Saluta! Ciao! Attenzione, lo youtuber Uswarna che mi chiede il passaggio davanti! E ti spingo dal forcellone! Grazie! Oh! Ciao! Ciao! Finito il primo giro, sono riuscito a fare la prova sulla sabbia molto meglio, da ieri ho abbassato ancora una quindicina di secondi, quindi perfetto. Idem nel cross test nel campo di grano, ho migliorato parecchio, quindi dai, vediamo di continuare così. Abbiamo appena finito di far benzina con Sofi, vado un pochino al paddock a salutare i ragazzi. Nel frattempo, come avete visto, un ragazzo col 125, col KTM, è rimasto senza benzina, mi son preso la briga, mi dispiaceva troppo lasciarlo lì, l'ho tirato per tipo 6 o 7 km. Ho la gamba un po' morta, quindi un po' di stretching e andiamo a iniziare questo secondo giro qua da Bibione. Ho la gamba! Grazie a tutti Voglio chieder fuori Sì, sì, ma anche ieri è uguale Gara finita E l'abbiamo portata a casa Anche questa Alla grande La mia super gas gas C350F Si è comportata come sempre Alla grande Adesso ho già fatto la docina E tutto, abbiamo qua Super Sofi Che sta cucinando Dov'è? Guarda là, i fusilli Alla grande E qua direi che siamo ben apparecchiati No? Dacci un'impressione su questa gara Andre è stato bravissimo Se lo merita proprio insieme alla sua motina Bene Hai visto sulla sabbia che numeri Vedrete nel video Hanno già visto perché siamo alla fine Ah, scusa, scusa, scusa Allora divertitevi Esatto Adesso andiamo, mangiamo E poi andiamo alle premiazioni Se il video vi è piaciuto Ho lasciato un like qua sotto Ma non è ancora finito il video Però, però Diciamo che dire di iscriversi Non fa mai male, no? Iscrivetevi dove c'è la campanellina Così che fa di DIN E... Alla prossima A dopo, a dopo, a dopo A dopo Classe 450 Sì pronta? Sì pronta Ciao Non solo videomaker Non solo social Ma ottima manetta Vince l'ultima tappa Di Bibione Classe 450 Andrea Vignone Il Vigno Anche Paolo Garuba A complimentarsi E allora C'hai già Fai anche una ripresa Vigno Fai anche la ripresa Dai Dall'alto Fai la ripresa dall'alto Ci riesci? 3, 2, 1 Andrea Vignone Fabio Milani E Marco Prado La classe 450 Gas Gas Finisce qua Quest'ultima tappa Di trofeo enduro Gas Gas Da Bibione Sono stati due giorni Davvero pazzeschi Sofia Si è trasformata In autista Mentre io Mi metto qua E adesso preparo Già I video Con gli on board Che usciranno Delle prove speciali Di oggi E della notturna Di ieri Prego a tutti E comunque Esatto Dovete ringraziare Anche lei Che dire È stato un weekend Fantastico Una grandissima festa Con gli altri cuginetti KTM E Osquarna Mi raccomando Come sempre Se il video vi è piaciuto Lasciate un like Qua sotto Un commentino Se non siete ancora iscritti Cosa devo fare Iscrivetevi al canale Gas Alla prossima Ciao ciao Allora siamo qua con Tiziano Meglio conosciuto come Rallypov Giusto? Corretto Ospite a questa ultima tappa Di trofeo enduro KTM Osquarna Gas Gas Raccontaci un po' Come ti sei trovato Con questa moto E un pochino le differenze Rispetto alla classica Moto da enduro Allora Sicuramente Sono moto molto diverse Per pesi Bilanciamento Pensavo che sulla sabbia Fosse un pochino Il suo pane Invece Non è semplice C'è tanto peso davanti Quindi appena porti Il peso avanti L'anteriore ci chiude Quindi bisogna stare O seduti Addirittura dietro Proprio in fondo sella Ok Oppure Comunque in piedi Ma tenendo tanto Benzina dietro Peso dietro Quindi guidandola tanto dietro Canali da dimenticare Perché il paramotore Si appoggia E quindi sei fermo E quindi traiettorie larghe Marcia alta Un po' Farla correre Particolare Bene dai Comunque hai avuto Un pochino un assaggio Di quello che sarà poi L'inizio della tua stagione Di gare Visto che poi Ti vedremo la Dakar E tutto il resto Giusto? Corretto In realtà La sabbia del deserto È un po' diversa Immaginiamo Diciamo che Quello è puro godimento Qua è pura sofferenza Ah ok ok Dai È più compatta Quindi diciamo che Galleggi Godurioso Ok Invece devi essere Un bel manico Ok dai Oh magari Prima o poi Avrò anche io La fortuna Di provare il deserto Chissà Sicuramente Basta volerlo Quindi se hai questo sogno Ci sono secondo me Tanti modi Per inseguirlo E anche O anche solo Per provare Il mondo dei rally Che è molto diverso Da quello dell'enduro Dai dai Bene In bocca al lupo E ti seguiremo poi Viva il lupo Nelle tue gare Grazie Ciao ragazzi Ciao ciao Grazie mille Grazie mille Grazie mille